Fantasian è il nuovo JRPG realizzato dal padre di Final Fantasy e dal suo team, Mistwalker. Hironobu Sakaguchi e Nobuo Umematsu tornano insieme in un'opera che recupera gli stilemi più classici del genere, ma riesce a essere innovativa grazie a piccole ma significative modifiche alla struttura ormai consolidata. Ve le raccontiamo nella nostra recensione di un'altra interessante esclusiva, Apple Arcade. La storia è classica, ma divisa in due parti, con la seconda prevista nel corso del 2021. Per questo la valutazione complessiva andrà ripresa in un secondo momento, una volta che potremo provare l'esperienza completa. Questa prima parte dura comunque già 20 ore e la narrazione guida l'esperienza rendendola piuttosto lineare. Gli elementi tipici del genere ci sono tutti. Il protagonista è un eroe, un predestinato che soffre di amnesia e deve cercare di recuperare elementi della propria storia e identità, per farlo parte per un'epica avventura che lo porta a fronteggiare una divinità malvagia con l'aiuto di vari compagni. I cliché vengono però utilizzati con maestria, inserendo qua e là ironia e citazioni a titoli del passato. La narrazione avviene attraverso qualche scena di intermezzo e dialoghi, ma anche con il semplice utilizzo di illustrazioni con testo a schermo. Una soluzione affascinante, quasi in stile visual novel, che tradisce la dimensione contenuta della produzione. La scrittura si mantiene sempre piacevole sia nei dialoghi, sia nelle parti completamente scritte e localizzate in inglese. L'azione si svolge tra esplorazione in terza persona, telecamere fisse e combattimenti a turni. Vagando per le ambientazioni è possibile parlare con numerosi personaggi, raccogliere oggetti più o meno nascosti e prendere parte anche a qualche missione secondaria, magari risolvendo semplici enigmi ambientali. Gli incontri con i nemici standard sono casuali, ma gestiti tramite il Dimension. Si tratta di uno strumento che, se tenuto acceso, consente di spedire quelli già affrontati almeno una volta all'interno di una dimensione alternativa. In questo modo possiamo esplorare liberamente gli scenari, almeno fino a quando il Dimension non raggiunge la massima capienza di 30 nemici, evento che ci costringe ad affrontarli tutti insieme in una grande battaglia campale a ondate progressive. Il sistema di combattimento è basato su una gestione degli attacchi lungo traiettorie o zone gestibili direttamente con movimenti delle dita sul touch screen. Gli scontri sono progettati in maniera tale da porre l'accento su questa caratteristica, posizionando solitamente una certa quantità di obiettivi diversi sul campo di battaglia. Oltre ai classici rapporti di forze tra attacchi elementali, magici e fisici, il controllo delle traiettorie e delle zone d'impatto introduce un ulteriore livello strategico che rende gli scontri molto più coinvolgenti delle normali battaglie a turni classiche. I controlli sono ben studiati per sfruttare il touch screen, tanto da renderlo preferibile anche all'utilizzo del controller, comunque supportato. L'evoluzione del personaggio è classica, ma verso la conclusione si apre una nuova gestione delle abilità e della progressione dei combattenti, che non viene approfondita più di tanto, e si svilupperà probabilmente in maniera più compiuta nella seconda parte. La costruzione degli scenari si basa su diorami reali, fotografati e parzialmente modificati, al posto delle classiche ambientazioni poligonali o in 3D prerenderizzato. È una soluzione di grande impatto anche perché pianificata con cura e con notevole studio dal punto di vista stilistico. I paesaggi non sono del tutto immobili. Personaggi, animali, corsi d'acqua, effetti atmosferici e particellari animano ogni inquadratura, restituendo la visione di un mondo particolarmente vivido. Infine, le splendide musiche di Nobuo Umematsu spaziano tra brani rilassanti al pianoforte e soluzioni meno classiche, che contribuiscono a costruire un'identità molto peculiare. Fantasian è uno splendido omaggio allo stile più classico del JRPG, nonché una delle sue migliori interpretazioni moderne. La ricostruzione del canone tradizionale non è solo un'imitazione di maniera, e trova nuove soluzioni espressive di gameplay. Il grande lavoro di artigianato dietro alla costruzione dei diorami porta a scenari che superano qualsiasi costruzione prerenderizzata, rendendo sorprendente un'impostazione grafica che dovrebbe apparire obsoleta. Le soluzioni adottate sul sistema di combattimento fanno poi tornare coinvolgente quello che di solito viene considerato un noioso retaggio del passato. Non vediamo quindi l'ora di scoprire la seconda parte, anche per poter valutare meglio i punti meno convincenti, come la progressione della storia e l'eccessiva linearità. Dopo World of Demons siamo comunque di fronte a un'altra valida aggiunta al catalogo di Apple Arcade. Voi avete già provato il servizio di Apple? E cosa ne pensate di questo nuovo JRPG? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se avete trovato il video interessante lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine.